... 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 La matematica ci va Ma non so di quanto ci va Sul fuori quaderni è Matemate 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 3-4 fa Fa meno 1 Esatto E invece sei per un miliardo fa Sei miliardi? Centrato Da 45 a 54 Quanto ci vuole l'arta? Nove Nove, otto Nove, nove Volevo vedere se stavi attenta Nove Nove E questo è Magic Mama